benvenute a tutte e benvenuti a tutti io sono Sara Pollice una delle funambole radioattive e siamo qui con Angela Saieva ciao Angela ciao Sara ciao a tutti a tutti che è un'attrice una performer una formatrice ed è una delle protagoniste del progetto la casa spiazza della casa internazionale delle donne con la direzione artistica di Maria Luisa Celani di cui Francesca Romana Michele Picardi ha curato la parte appunto delle video performance e dunque Angela il tuo il tuo monologo si intitola onde medie di Francesca Romana Michele Picardi io comincerei proprio da qui per la nostra chiacchierata cioè questa performance che poi parla appunto di corpi di corpo è stata realizzata in un momento in cui appunto il corpo è assente cioè è schiacciato in una dimensione di presenza o di precarietà e quindi volevo sapere da te se ce lo vuoi raccontare come come l'hai vissuta la realizzazione di questo video e che cosa che cosa insomma hai sentito no durante durante le riprese guarda mi viene dalla prima cosa che mi viene a dire ti è che è stato praticamente quasi un anniversario nel senso che siamo andati a girare praticamente a un anno dalla chiusura dei teatri dal lockdown e tra l'altro veramente a due secondi prima dalla zona russa improvvisa in cui ci troviamo io e te adesso quindi ne parlo con un carico di nuovo di corpo schiacciato e di corpo che non sa in quali confini muoversi che è una situazione veramente imprevista insomma ecco sono cose che ci diciamo da un anno quindi su questo non mi sto a ripetere invece quello che è successo rispetto a questa performance che insomma che vedrete è che veramente è a metà tra il teatro e il video e perché per ora mi è capitato di lavorare in quest'anno registrando nascosto nella cabina armadio mettendo golf audio quindi podcast voci narranti e quant'altro e poi di fare il mio lavoro di storyteller di racconta storie così come stiamo facendo io e te adesso c'è seduta sulla sedia cercando di coprire mezza casa quindi in una situazione di corpo limitato e col terrore di sbattere il microfono sulla collana invece aver preso la macchina essere andata a provare anche lì sempre con questa incertezza mi fermeranno mi chiederanno dove sto andando è una situazione insomma ma essere poi entrata fisicamente col corpo con le emozioni col portato poi di un monologo che racconta in qualche modo quello che abbiamo vissuto e quindi averlo portato dentro la casa internazionale dove dove chiaramente ho anche la mia storia personale e averlo portato dentro la foresteria dove ora le storie di tutte le donne che hanno abitato quel luogo preciso non sono più e la foresteria in un momento veramente di grossa incertezza e di stallo e di pensione quindi entrare in questo luogo sospeso ma iper abitato è stato notevole quindi in questo tempo di attesa in cui mi sono messa sdraiata sul letto aspettato ripassavo la memoria è veramente c'è un genus loci nei posti per cui non credo di essere stata da sola ecco e soprattutto perché il monologo non ero io da sola non era la cantante di cui raccontavo ma sono tutte le donne le artiste le interpreti che si sono trovate ci siamo trovate in questo momento di di sospensione e anche di presa di contatto con sé diversa quando lei dice mi sono resa conto di non aver mai osservato veramente gli alberi io ho una fortuna che ho un figlio di sei anni quindi da sei anni a questa parte osservo di nuovo nuovamente gli alberi perché li vedo con i suoi occhi però durante il lockdown quando la prima uscita è stata molto simile a quella che racconta lei cioè sono stati questi piedi molto pesanti in un universo invece il mio veramente molto sospeso molto grigio mi ricordo questa prima uscita con un tempo che in cui pioveva quindi veramente è stata complicata e in qualche modo questo poi succede che riprendi delle cose tue le trasformi per dar voce ad un'altra donna ad un'altra persona che ne rappresenti tante altre un po' l'università l'università del teatro poi del cinema del mezzo del video del modo poi di arrivare nelle case sì io credo che diciamo che sia molto importante un progetto come questo in questo momento perché ci dà la possibilità non solo a voi come artiste ma anche a noi come fruitori puritrici di di queste opere di metterci in relazione con molte dimensioni che invece resterebbero mute no cioè come dire ci ci riguarderebbero ma soltanto in una dimensione personale e privata e invece attraverso il veicolo artistico come sempre accade ci mettiamo in connessione l'una con l'altra l'uno con l'altro e cerchiamo di attraversare questo tempo in un modo diverso da quello dell'apnea dell'attesa del dell'essere sempre come dire con un sguardo all'indietro e uno diciamo puntato verso un futuro completamente ignoto insomma senza senza scampo poi alla fine senza prospettiva invece ecco ritrova è un modo per ritrovarci io credo e guarda legandolo al vissuto io ti volevo fare una domanda rispetto a quello che tu avevi detto cioè rispetto alla situazione covip no perché diciamo l'eccezionalità di questo momento la stiamo vivendo tutti ma la categoria il settore diciamo proprio degli artisti è molto penalizzato se ne parla moltissimo ma mai abbastanza e poi volevo anche appunto sapere da te come questa questa difficoltà viene vissuta anche in quanto donna attrice guarda mi riallaccio la prima cosa che hai detto che mi ha fatto venire in mente una cosa che per me è veramente basilare in questo momento il teatro manca l'arte manca e non manca solo a noi che la facciamo ma manca come ipotesi di trasformazione collettiva la responsabilità di aver portato in scena qualcosa che racconta il covid è una responsabilità a me manca non solo come attrice a me manca come persona a me manca come fruitrice cioè quando si dice riaprono i teatri si pensa all'edificio teatro il teatro non è l'edificio potrebbe mancare l'edificio è relativo l'edificio ma quello che manca è la possibilità di rielaborazione da parte nostra e da parte virgolette vostra di quello che sta accadendo che è un evento spaventoso e ti faccio un esempio stupidissimo mi sto guardando gris anatomi che racconta il covid devo dire per quanto mi faccia male mi fa bene perché lo sto vedendo finalmente anche filtrato da dalla fiction assolutamente verosimile ma non solo con il bombardamento delle immagini reali ma anche la possibilità di elaborarlo attraverso l'arte quindi si sta disautorando l'arte dal suo potere principale che il motivo per cui continua a esistere perché ecco è veramente questo e mi riallaccio la seconda parte della tua domanda in quanto lavoratrice dello spettacolo in quanto donna in quanto in quanto formatrice fa un crash che non te lo sto neanche a raccontare nel senso che stiamo lottando veramente da quando è accaduto anche con una consapevolezza nuova e diversa di cui sono non grata perché grata non sono al covid però a cui si attribuisco questa possibilità di aver visto le cose di aver scoperchiato un vaso di pandora e di averci portato insieme però ti dico io mi cerco nel registro storico come formatrice faccio trovarmi perché sembra che io faccia un lavoro altro ma io insegno quello che faccio e non ho quel punto tutela né da una parte né dall'altra come madre ti posso dire quest'ultima chiusura delle scuole assolutamente almeno su Roma almeno per la mia esperienza con la materna di mio figlio pubblica incomprensibile veramente incomprensibile poi con questa strana presunzione che se i genitori sono a lavorare a casa avere un figlio o dei figli perché ho detto che siano solo sia assolutamente conciliabile non è così io sto soffrendo un tempo non dirò parolacce ma di schifo mio del mio lavoro e del tempo che dedico a mio figlio perché tutto fatto adesso con la cosa che lui adesso è da solo di là che può entrare in qualunque momento ci sembrano sciocchezze però non è così hai la percezione che non ci sia una consapevolezza delle persone dell'individuo e dell'individuo a comuni infatti io penso Angela che una delle parole più importanti che possiamo dire che tu hai pronunciato è responsabilità nel senso che veniamo in qualche modo un po' schiacciati da quest'idea che il covid ci ha travolto e quindi noi non abbiamo nessun strumento questo non è vero perché avevamo invece prima del covid degli strumenti che sono possibili cioè che possiamo assolutamente recuperare e mettere al servizio di questa nuova elaborazione che ci serve fare ecco quindi se il femminismo ci ha insegnato qualcosa e la casa internazionale e la casa spiazza insomma i progetti che facciamo all'interno che agiamo all'interno della casa è proprio che dobbiamo prendere parola cioè dobbiamo prendere parola e affermare in forza che noi questi strumenti di elaborazione ce li abbiamo e li vogliamo mettere alla base di un soggetto politico collettivo quale siamo sempre state insomma e che continueremo ad essere nonostante magari alcune persone insomma anche influenti vogliano negarlo detto questo angela io chiuderei ma un paio di minuti se settiva quali sono proprio le affinità tra te e la protagonista del monologo e proprio in questo tempo cioè così e quali le differenze ma proprio in una battuta se ci riesci guarda la prima affinità mi viene troppo da ridere sono i capelli perché quando l'ho letto la prima battuta i capelli mi stanno malissimo stamattina stanotte perché poi abbiamo cambiato ora del giorno e della notte in cui provava in cui registravamo ecco oggi se una riprova esatta in cui si può andare online con dei capelli terrificanti e con la mollettina dei cinque anni per cercare di salvare un riccio che non si è formato però dietro questo che sembra banale e superficiale c'è anche tutta una rappresentazione di sé esposizione di sé che il video devo dire io per esempio sono un'attrice timida io non amo essere fotografata per cui in questo momento c'è una sovraesposizione pazzesca da questo punto di vista per fortuna riquadro alla mia destra che non vedo guardo il puntino verde quindi non so che cosa stia succedendo nella mia faccia ma poi avrò il momento del tra l'altro lockdown 12 chili in più anche questa cosa e ti devo dire questo non c'è nel monologo mi viene a dirtelo ci tengo a dirlo come attrice una battaglia che per me è importante in questo momento è quella veramente sui corpi su questi corpi normati in cui se non sei magra ho compiuto 50 anni l'11 febbraio e ho il corpo di una persona di 50 anni che non è un atleta e vorrei poter portare in scena questo corpo una cosa su cui con la regista abbiamo parlato a lungo le cicce le non tonicità le irregolarità che però quando io vedo io mi ci riconosco quando vedo solo questo anelito di perfezione che tra l'altro in ogni tempo cambia però in qualche modo sempre di più il reggimenta e veramente decostruì cioè danneggia danneggia ecco su questo ci tengo particolarmente benissimo l'orgoglio dei nostri corpi ci ho messo due minuti a farla fuori se poter chiudere con questo ecco sì sì io direi che proprio cioè se qualcosa veramente abbiamo imparato dal covid è proprio di applicare alla perfezione perché abbiamo incontrato un grosso limite e quindi ce ne siamo ce ne dobbiamo fare carico insomma ce ne dobbiamo rendere conto e vivere un altro tempo io ti ringrazio tantissimo angela e non vediamo quindi l'ora di vedere il video e che speriamo appunto di ritornare quanto prima in presenza ad agire con i nostri corpi insieme ai nostri corpi ed agire anche di incontri insomma no e ti abbracci io senza paure assolutamente sì grazie angela grazie grazie mille grazie 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 grazie